Altre storie Rai Cinema presentano Domenico Fortunato, Ornella Muti, Michele Venitucci, Alessandro Intini, Giulia Ramirez, Caterina Sciula, Jane Alexander e Alessandro Tersigni. Cosa succede se due fratelli in lotta per i vigneti di famiglia si innamorano anche della stessa donna? Wine to Love, un film di Domenico Fortunato. Evento speciale al cinema il 18 e 19 dicembre. Ora si deve bere, non mancate!